Comunque è una cosa che ci riguarda perché noi utilizziamo il web tutti i giorni, è una cosa molto rischiosa. Si è parlato di bullismo e cyberbullismo all'ITIS Galileo Galilei di Arezzo in occasione del Safer Internet Day 2018. Questa mattina la polizia postale di Arezzo ha infatti incontrato oltre 100 studenti dell'istituto. Stamattina per esempio su 100 ragazze ne abbiamo 99 che fanno utilizzo dei social network. Il problema principale che abbiamo riscontrato è questo, è un utilizzo a volte leggero. Si pensa che divulgare foto, dati personali sia nella norma. Invece invitiamo sempre i ragazzi a utilizzare i social in modalità private e non fornire mai indicazioni personali. Anche ultimamente abbiamo verificato dei casi di alcuni ragazzi e ragazze che sono in corso in ricatti sessuali. Generalmente i bulli sono deboli più che fragili e mascherano questa loro debolezza con atteggiamenti di prepotenza. Il bullismo purtroppo costituisce uno dei mali della società studentesca del mondo giovanile di oggi. Quindi fate molta attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.